La mattina di sgombero praticamente io sono uscito alle 5 e mi hanno chiamato verso alle 9 e mi hanno detto che c'era stato sgombero sono tornato subito qua, ho trovato la polizia fuori e tutti i ragazzi stanno fuori Forze dell'ordine, bussano, spaccano, hanno modi aggressivi Quando siamo usciti fino ad oggi siamo in strada grazie amici, associazioni non governative, volontariati queste persone qua che ci stanno dando mano